Ok ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi ci vediamo insieme come valutare un esercizio particolare come tematica. Allora, come posso valutare? Cioè, quando hai un esercizio, lo vedo, io dico questo è un bel esercizio per l'ipertrofia, questo è un cattivo esercizio per l'ipertrofia, questo si può inserire, questo no, belle caratteristiche, cioè quali caratteristiche ci vogliono? Te ne dico 5, ok? Che sono, adesso ce li vediamo insieme veloce, profilo di resistenza, line of pull, quindi linea di tirata, se ti piace l'italiano, Bracing, stabilità, più o meno, poi te la spiego bene, rapporto carico esterno, carico interno e poi un ultimo bonus. Quindi rimani fino alla fine per sentire l'ultimo bonus perché è il più succulento. Allora, profilo di resistenza, resistance profile, che cosa sarebbe? Dai, questa la sai più o meno facile. Allora, quando io faccio uno squat, non sento sempre lo stesso carico, nel senso, sì, immagina di fare uno squat, immagina di fare un quarto di ripetizione anche, un ottavo, un sedicesimo di ripetizione, ok? È leggero sopra, ok? A parte che te pesa tanto il carico. Il carico lo senti, è quello però sulle gambe, bene o male, sopra è leggero, infatti immagina di star fermo, non senti i quadricipiti. Più scendi in basso, più senti che la forza aumenta, ok? Quando va al parallelo c'è un picco di tensione, quando scendi sotto il parallelo diminuisce, eccetera, questo te lo dico io perché ovviamente la percezione può non essere così semplice. Perché succede questo? Perché abbiamo diversi profili di resistenza, ossia abbiamo una meccanica del corpo, quindi un moment arm, un braccio di leva delle gambe, quindi il nostro corpo ha una meccanica differente, ok? Con questo braccetto qua, vedete, c'è una meccanica che può essere differente, può essere più chiuso, più aperto, i ginocchia si muovono, quindi c'è quello. Poi è un profilo di resistenza interno del muscolo, ossia i muscoli tendono a essere più deboli, massimo accorciamento e massimo allungamento, ora il massimo allungamento difficile viene raggiunto, ok? Rispetto al massimo accorciamento, quindi in sala pesi normalmente in posizioni di massimo allungamento in realtà stanno quasi a metà del loro ROM e quindi il distretto muscolare è tendenzialmente più forte, quindi quando ci accorciamo perdiamo capacità di esprimere forza e questo si mette in un pulley, quando sto qua, sono bello accorciato, riesco a esprimere meno forza e poi in più c'è una biomeccanica eventuale dell'esercizio, per esempio un t-bar in basso, la meccanica dell'esercizio è pesante, in alto è leggero e viceversa. Questi tre profili di resistenza che si sommano, fanno e creano un unico profilo di resistenza che è una risultante, che sarebbe la tensione che tu, tu proprio te, percepisci all'interno del muscolo in ogni istante di ROM, nel movimento, quando ti muovi, quanta tensione senti nei vari punti, non senti sempre la stessa tensione, non è costante, è varia, ci sono punti più facili e più difficili, infatti avrai notato in un pulley che puoi riuscire a fare qualche movimento ma non riesci più a chiuderlo a un certo punto, perché? Perché in questo tratto è semplice ma poi qua è troppo difficile e non ci arrivi perché hai accumulato fatica. Tra parentesi mi segui su Instagram, mi segui qua su YouTube, allora siete in tantissimi che guardate video Instagram, guardate video TikTok, guardate video qua su YouTube e non mettete il segui, cioè follow, spollicia, non ci vuole niente, veramente, a noi ci ha dato una mano veramente, veramente importante, quindi follow, adesso la regola, guardate soltanto se hai messo il follow prima, se no è cattiveria, per favore, dai, comunque dentro questo. Secondo, quindi il profilo di resistenza è questo, perché è importante saperlo, perché è importante non saperlo, ci interessa, non ci interessa, allora, generalmente quello che possiamo dire è che il profilo di resistenza è interessante perché più piatto è, quindi sento una tensione quanto più costante possibile, per esempio in un axquot metto degli elastici, più è semplice non incorrere in stalli, quindi non incontro uno stallo nell'alzata, nella programmazione soprattutto, e sento il movimento più fluido, quindi riesco anche a esprimere più effort, perché quando arrivo a cedimento, sono arrivato a cedimento, non posso andare da nessun'altra parte, non ho punti dove scappare, quindi da questo punto di vista è molto molto vantaggioso. Però non devo neanche puntare ad avere sempre un profilo di resistenza spiatto, perché per esempio in un pulle mi fa comodo avere uno sticking point, perché riesco a creare molta connessione nel muscolo, in alcuni esercizi voglio più tensione e massimo allungamento, per tante ragioni, però di questo magari parleremo, però è un primo elemento di valutazione. Secondo line of pull, questo semplice semplice, la regola è che il muscolo, le cui fibre sono in linea del movimento articolare che faccio, è quello che si attiverà di più. Per esempio, petto, se faccio questa tipologia di movimento, tendenzialmente il fascio esterno costo addominale, perché biomeccanicamente si attiva insieme, esterno costo, quello addominale, ha un'attivazione maggiore, mentre il claveare, le fibre sono indirizzate così, quindi quando è che lavora, quando sto così, quindi quando faccio questo tipo di movimento, che è più una panca inclinata. Questa cosa dice, voglio allenare un distretto target, ovviamente devo valutare il line of pull del movimento, per valutare che effettivamente abbia una buona attivazione. Ancora, il deltoide posteriore, questo movimento, non tanto perché il deltoide posteriore origina dal margine posteriore della spina della scapola, quindi quando sto qua è orientato in questa direzione, quindi io realmente per attivare bene il deltoide posteriore voglio fare questo tipo di movimento. E superare la linea del tronco, perché superata la linea del tronco, il grande orsale inizia ad allungarsi. Prego. Bracing, terzo principio, il bracing è un po' la stabilità, è generalmente il concetto di quanto sono in una posizione in cui riesco ad avere un controbilanciamento di forze alla mia spinta. Faccio un esempio, su uno squat io sono anche abbastanza stabile eccetera, ma nel momento in cui spingo io non ho un preciso controbilanciamento, ok? Il bilanciere è un punto solo che logicamente se vado un po' indietro, vado un po' avanti, perdo totalmente focus. Mentre su una pressa io sono molto più vincolato, quindi non è proprio stabilità, perché se sono stabile pure in uno squat. Però su una pressa ho meno modo di ballare, cioè tengo e posso premere a cannone, sui macchinari è tendenzialmente meglio. L'esempio che si fa normalmente è quello della chest flies, cioè delle croce ai cavi. Se le faccio normali io devo bilanciare tutto col tronco eccetera, perché non ho niente che mi vada a bilanciare contro il movimento della resistenza, quindi faccia da counterbalance. Mentre se ho una panca io posso stare qua, non muovere nessun muscolo, anche se è logicamente impossibile, a parte il petto che rimane in attivazione e tendenzialmente non succede niente, perché io vado indietro ma la panca mi tiene fermo, quindi farle su panca ha un miglior bracing. Scegliamo prioritariamente esercizio con un miglior bracing, è tendenzialmente meglio dell'altro. Poi, quarto punto, che è altrettanto importante per valutare un esercizio, sta nel rapporto tra carico esterno e interno. Questo è molto importante. Il carico esterno è per esempio in uno squat, quello che io metto nel bilanciere, il carico interno è quello che percepisco nei quad o nei glutei in base a qual è il muscolo che sto valutando, però quello che percepisco. Faccio un altro esempio. Il carico interno di un'alzata laterale, quando ho 8 kg e lavoro così, il carico esterno è 8 kg e c'è una certa tensione qua. Se io voglio fare lo sbruffone a parità di forza, prendo 40 kg e faccio le alzate così, chiudendo il braccio, io ho 40 kg di carico esterno, ma carico interno è sempre lo stesso, possibilmente, se non anche inferiore, perché vado a citare il movimento, eccetera, eccetera. Quindi il rapporto tra carico esterno e carico interno è importante, perché? Perché io voglio quanto meno carico esterno possibile e quanto più carico interno possibile, perché la regola è rendi il carico quanto più pesante possibile per il distretto target. Il bodybuilding è una gara che solleva meno. Il carico esterno vuol dire tanta fatica a livello sistemico, il carico interno la fatica sistemica tendenzialmente non ce l'ha, perché è una fatica muscolare. Quindi il carico esterno mi dice quanta fatica sto facendo a livello sistemico, stabilizzazione, struttura, osseo articolare, legamenti, tendini e soprattutto CNS, quindi sistema nervoso centrale, il carico interno mi dice quanto stimolo sto dando al muscolo. Quindi per questo lo squat non è un movimento ottimale, al di là del bracing e tutto il resto, ma perché il rapporto scarico esterno interno per i quad è tendenzialmente svantaggioso, perché inevitabilmente per scendere, per bilanciarmi devo buttarmi in avanti, c'è una forte flessione dell'anca e per spingermi di nuovo indietro dovrò fare un'estensione, quindi è un movimento combinato di accosciata, quindi come un squat congiungo uno stacco, perché c'è questo movimento di flesso e estensione dell'anca, inevitabile. Quindi per questo c'è qualcosa che entra in gioco e che fa alza il rapporto carico esterno interno. Arriviamo quindi al quinto punto, che so che sei super curioso per questo quinto punto, adesso te lo dico. Il quinto è il più importante in assoluto, perché poi io so che cosa succede con questo video, tu ti metti adesso a ragionare, ti valuti bene nel resistance profile, line of pull, vedi tutti gli esercizi della scheda, dici questo sì, questo no, questo sì, questo no, fermati. Il quinto punto è il più importante, il quinto punto è il più importante, che è, rullo di tamburi, sto a tergir pensando lo so, l'esercizio lo devi sentire bene. Dici, Luda, porca puttana quanto è bello questa cosa. Però sì, se tu un esercizio lo senti bene per il petto, l'acea espresso unilaterale, quello o l'altro, questo, senti bene il distretto lavorare, riesci a spremerti bene, riesci a creare effort, sentire bene, attenzione, non vuol dire sentire il crampo, perché sennò ti metti qua, senti i crampi, indurisci, fai squisa, sentire bene vuol dire creare un buon effort, progredire, sentire il distretto che lavora. Se tu un esercizio lo senti bene, fai quell'esercizio, semplice. Quindi il mio consiglio è non impazzirti con mille e mille esercizi che leggi dovrebbero essere buoni o secondo questi principi dovrebbero essere ottimali, piuttosto trovati quegli esercizi che studi e funzionano, che riesci a sentire bene e fai solo quelli, lavora solo con quelli, non c'è bisogno di avere mille esercizi per una scheda, c'è bisogno di farne pochi, ma buoni. Con questa chicca io ti ricordo di seguirmi ovunque, perché sto ovunque, Lui, M su Instagram, su TikTok e qua su YouTube, metti subito, non ti azzardare neanche a chiudere il video, metti subito il segui e ci vediamo al prossimo video.